Ce ne sono tipo due dentro nella cosa dell'UFO. Ce n'è uno di fianco, uno di fianco sotto. Due presi. Ok, è morto. Vai. Grazie. Uno di sotto terra qua fatto. Un altro fatto, due fatti. Madonna che flancata io ho tirato a questi. Io me la vado di cicchino sui teti come chi. Mi metto sulla mia classica casa al centro. Se riuscite copritemi sulla destra perché probabilmente in 8 contro 8 sicuro vengono a rompermi le balle qualcuno a destra. Ok. Uno disteso. Preso uno. Ok, ha battuto uno. Però mi sa che lo restano, perché è bello safe il tipo. Sotto la bravita. Ho visto? Fatto. Bravo. C'era un altro terra. Ho fermato. Ho fermato. No, sono morto, cazzo. Guardando. Guarda, vai. Smocco. Vai, vai pure. Preso. E... No. Preso. Doppio headshot. Ok. È lì dietro uno. Eh, lì dietro. Sto avanzando. Visto. Preso. E... No, fammi sparare il culo. Perché non ce l'ha preso nel trozzetto nel gioco? Arriva uno al centro. Colpito, preso. Ok. C'è un altro, c'è un altro. C'è che è sotto di me, eh? No, è qua dietro, qua dietro. Allora, me lo pusho io con la pistolina. Buongiorno. Ok. Let's go. Quante volte si sono rianimati che abbiamo fatto... Cinque... Quasi undici, dodici kill. Quante cazzo volte si sono restati sti qua? Scusami. Fatte cose anche voi. Quando uccidete confermate. Eh, ho capito. Eh, se non posso farlo. Una battuta. Eh, vedi, eh. Su quello lì lo posso confermare. Morici. C'è un cicchino. Preso, scambio bare. Potete restarmi? Scendo di sotto, scendo di sotto. Eh no, posso scendere. Ma qua è in capo aperto. Quello, dico. Grazie. Preso uno là. Stupido confermato. Preso un altro qua sopra. Eh, andatelo a confermare qua dietro. Ah, c'è un altro lì, Freddy, Freddy là. Sì, sì, lo sono visto. Porca, mi hanno ucciso. Vai, Wolf, rire-essami. Ma c'è un granchio di te, Wolf. È un granchietto. Bellissimo. Oh, è da noi, è da noi, è da noi. Di dove? Fatto. Guarda che bello il granchietto. Ok, raga, qua pistoletta. Io muoio, perciò sappiate, siete con un uomo in meno. Io una cosa veramente odio usare in sto gioco, l'ho sempre detto. Oh, oh, tutti al centro. Stanno pushando come degli animali. Corro me, corre me, corre me, prego, per aiuto. L'ha fatto? 3-1 one shot. Viene entrata l'altro. Un altro... Che cazzo è successo qui? Adesso qua, ragazzi, io c'ho il tetto per dominanza. Ma... Ma porca, la... Ma porca... Cosa vuoi, Freddy? Quando vuoi, eh? Mi si sta pagando, che vuoi? Che voglio dire tu da me? Sotto le parafitte, raga. Eh, un attimo che c'ho... Arrivo, 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 arrivo. Hanno tipo tre cecchini loro. Eh, troppi. Ma... Dai, uno che assist. Eh, c'era uno in head glitch con il cecchino che non lo vede. Eh, Freddy, c'era indietro. Freddy! Non so, non so, cazzo. Arrivo, 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 arrivo. Prezzo. Scusate, te l'ho accettata. Orca, 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 orca. No, mi ha riconfermato. Eh, un altro. Sei persone che mi puntano. Un attimo. Eh, sono tutti dentro. Ce ne sono tipo due dentro nella... Nella... Uno preso. Nella cosa dell'UF. Ce n'è uno di fianco, uno di fianco sotto. Due presi. Ok, è morto. Uno che sta arrivando. Ti pusha, no? Arrivando da centro, sì, sotto con la pitta. Preso. Ok. Ok, manca uno solo, dove? Ah, è dentro la casa, è dentro la casa, l'ho visto. Sì, è sull'obiettivo, è sull'obiettivo, è qua dietro. Capito? È qua dietro, è qua dietro. Let's go! Che cazzo abbiamo ribaltato qui? Mamma mia, GG, minchia. Eh, io se non mi facevo bloccare un'ora e mezza da uno sto rampino qua, due dal cecchino in fondo della mappa, ora hai in mente e avrei potuto giocarmela meglio. No, cazzo, in casa da me c'è uno. Arriva, 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 arriva. Ce l'hai sotto, sotto la palla pitta, sotto di me. Guarda, uno qua, fatto. C'è ancora un cecchino in uno spalloro. Ok, mi ha restato Bagielog, ma no, questo qua è bravissimo. Guardalo lì, quel cecchino stronzo dov'è. Come l'ho detto. Minchia. No, lo strike. Uno da destra, tre da destra. Uno preso. Tazzo. Due presi, raga, mi serve una mano. Qui ne ho fatti due, però adesso li restano, ragazzi. Li restano. Alla Liz che continua a sparare sto missile qua, che non ne becca mai mezzo. Beh, qualcuno gli dice di smetterla. Uno sul tetto. Preso. Perché l'ho visto uno. Bravo. Sono andato in tre, campare adesso responso. Oddio. C'era uno anche là. Preso. E basta RPG. Che caccia è diventato? La modalità to contro otto è molto migliorata, perché il tempo che fai il giro... Tutti stanno andando a destra. Perfetto. Io ai nemici non gli consiglio di affacciarsi di qua. Ho fatto uno da me. Abbiamo fatto noi tutti a destra e l'ordine sinistra. Fai capire. Meromale. Non ne ho trovato uno, non te lo dico. Uno guarda di stessa terra. Che spavento. No, vabbè. Mi sono trovati tutti dietro. Preso. Guarda un attimo, c'era uno qua. No, vabbè. Non ne ho avuto il tempo di leggere. Tranquilli, tranquilli. Ancora qua, ancora qua. Presi. Let's go. Vinga, tutti noi a destra e tutti loro a sinistra l'hanno fatto praticamente. C'erano tutti lì nella sala server. Che cazzo è stato? Ma sta merda di porta chiudi infarto. Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. Preso uno. Mi stanno spottando, occhio, eh. Uno nell'angolo, uno nell'angolo. Fatto, 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 fatto. Vai. Grazie. Uno di stessa terra qua, fatto. Un altro fatto. Due fatti. Madonna che flancata, io ho tirato questi. Assist, va bene. Let's go. Minchia, raga, qua li abbiamo flancati da paura, eh. Io mi sono fatto tipo 5 kill, credo. Non c'è un cazzo di... C'è uno davanti a me, è un one shot... Sì, è un one shot, ragazzi. Vuol dire un angel one shot, invece è un one shot. Vabbè, è importante che ci siamo capiti, no? Sono tutti in sala server. Uno è one shotissimo. Un altro preso. Uno è preso pure io. Madonna quanti siete qua? Preso. Presi, 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 presi. In questa partita giocherò una roba magica. Il DM7. Non lo uso da una vita. Ma manco io. Però lo uso giusto per dimostrare che tutte le armi si possono utilizzare. Ho pure fatto la rima. Perfetto, tutti qua da me. Ma c'erano due fk, mi sa. Io ne ho fatti due nel loro spawn, ragazzi. Non chiedete, non fate. Infatti, tre. Ne vatti. Ok, nasi, sono svegliati i tizi. No. Tranquillo. Infatti, oh. Ah, io ne ho fatti due fk che poi si sono risvegliati quando li hanno rianimati. Tipo... Raga... Ma le ha piantate di sboccare qua dove passo io che ho il termico, partaccio vostra? Fatto uno, fatto uno, fatto uno. Vai, fatti due. La sorella con lo SPH. Da dove cazzo mi ha fatto? Fredi, c'è un altro dietro. LOL. Mi sa che il tempo ti ha scambiato per compagno. Tipo, vai, falli fuori. E tipo, tu, ok? Wait a minute. Tipo, Fredi, scelgo te. No, aspetta un attimo. E qua, ragazzi, parte il devasto. Fatto uno. Ho fermato uno. No, uai, che tocco da me. Pronto a fare i headshot. No, abbiamo due dietro. Bravo, Fredi. L'altro è qua nel suo respawn. Perché c'ha... Scusami, ma signorina, come fa a avere la sua arma, lei? Eh, forse perché è arrivata dopo. Ha capito? Eh, due stronzi con... La notte trarre, lui con la... E la vence. Io flanco, ragazzi. Flanco, flanco. Io vado. Hai detto franco? Anche. Uno l'ho fatto, eh. Uno l'ho fatto. Oh, dal tetto. Cazzo il tutto. What? Divan mi ha fatto un headshot al volo saltando da un angolo. Uno preso. Presi due. Uno è praticamente one shot. Presso. Preso un altro. Uno. No. No, ce n'era uno che ha parato qua da me, ragazzi. Grazie. Oh, oh, oh. Che RPG. E qui? Ci divertiamo. Fatto? Cazzo, non mi ha fatto nemmeno a morire. Preso, lol. Ho fatto un quick one. Eeeh, marca puttana ce n'era un qua da me. E l'ultimo è nel suo spawn. È comparato... Non è nel suo spawn. ... ... ... No, son, where'd you find this?